La Polizia di Stato di Enna ha attuato nei comuni di Assoro, Leonfort e Nissoria. Interventi integrati in multilivello di controllo del territorio. I controlli effettuati hanno permesso di controllare 169 veicoli, 265 persone, 12 soggetti, elevare 22 sanzioni per violazione al codice della strada, denunciare una persona per guida in stato di ebbrezza e sottoporre a sequestro amministrativo tre veicoli, effettuare controlli in quattro barre, un controllo amministrativo in un circolo ricreativo e una perquisizione personale e veicolare.